...che non avere capito che mi interessa tutto, visto che ci sono più fatti di tre indagini, giovani, che si mangiano malissimo. E volendo illustrare brevemente come è partito questo progetto nelle scuole elementari. Il progetto si chiama Trianci e si è articolato in un po' un po' rapporti. Guarda, guarda con Deputy. Nei posso dire parco! Allora, quello progetto si chiama Trianci e poi c'è nel provolo collegale dei bossi nei sfulto delle manne della parte quindi orientale. Eh... diciamo, abbiamo potuto rendere consapevole che i bambini si ammettano male per i bambini e poi hanno ragazzo i bambini inviato a tentare, diciamo il settimanale, in cui si peccano e mangiavano e queste sono le dati del settimanale, allozzatene le cose delle atti, allozzatene le cose delle atti, allozzatene le cose delle atti, la realtà è che questo poi è una tentazione, diciamo, piuttosto localizzata, che i bambini facevano, nel tipo delle spermerenze, così i bambini, gli scorsi generali, tutti, diciamo, che avevano in un'altra parte della Venezia, come se gli arti erano piuttosto monotomi, diciamo, dei primi arti, non c'era il diviso di legumi, di letture, sono tutti gli arti, diciamo, piuttosto il franino, il contone, il maiole, le patate, lo pezzo, proprio il smoglio, un pastino, tutte le mangiavate dunque perfette. Il secondo dato, diciamo, c'è una maggioranza che non sa carne, poco il pesce, e, addirittura, diciamo, due famigli su tre termini, per amanti. Il contone, per fare un'altra parte, le bambini che ha promaggiano poca contendettura, sono interessanti, diciamo, più anche al posto dell'ambulso e dell'avverbola, non è in gelata alla Venezia. Per cena, solitamente loro sono amanti della pizza, dei famigli, diciamo, anche dei pescini pre-confezionali, cittadino, non è un problema. Questa, vabbè, la scelta è stata conclusa. Per un'altra parte, invece, la città cittica, si è visto che, diciamo, assinanziare il personaggio dei bambini amati, le bambine danza in parente tra due bambini per volta la settimana. Però, intanto, la città fisica che si svolge nella scelta di città, ma quando non c'è una interessanti a questo ambito, dov'è fare più da fisica nelle scuole. Perché la maggior parte delle verezze delle scuole delle dante, che è tolte, sono i tarcivili. Non ci sono altri reti nelle scuole dove poter fare anche la fisica nella scuole, addirittura, caderebbe in fronte delle scuole delle scuole delle scuole delle scuole. Dove si potrebbe, però, fare giardini, il bambino darà la coltivazione dei fiori, perché no, anche uno sticello dove il bambino impara la settimana di uno stagio, di una della lettura. E quindi io mi sono resa conto, volevo fare delle espressioni. Girando in queste scuole, ho visto che c'è un degrado ambientale e strutturale della scuola dove ci sono sempre troppo, quando si cercano di rimediare a queste carenze strutturale, a volte facendo andare a questa fisica, anche nei luoghi hanno molto più dei discusi che non si sa rimuovere. Ma a questo serve per la buona comunità dei maestri, perché loro non lo potrebbero fare. Allora, io ti domando, se noi parliamo tanto di educazione alimentare delle scuole con i bambini per liberare una dieta mediterranea che comunque è stata in una strana nella sua essenza e quegli bambini mangiano fatti, cazzini, già fatti, sono abituati a già passato tutto, i bambini ad andare a McDonald's con il kit e non si intende invece il recupero dei piatti non più tradizionali, la così diciamo parte tra gioco, la pasta con i debumi, con le verdure, agilizzate, eccetera, meno raffinati, invece i bambini svolgono tutto quello che ci vuole, diciamo anche la medicità, non sono una strana, l'alentina che ha guardato a queste lezioni, ne sta a un segreto professionale, il bambino vedeva non deve accettare l'alentina nel cassetto e questo la mamma non deve la far trovare. Allora, la potenzia diciamo di cambiare tutto questo, non serve solo usare i bambini, le mamme, le famiglie, le scuole, ma ci vuole il supporto, diciamo, dell'autorità, di cambiare proprio tutto il supporto sociale che qui mangia. E diciamo questo è stato l'inizio, questo è stato il primo anno, poter partecipare le mamme per prendere consapevoli dell'alentina e dell'alimentazione che conoscevano i loro bambini. Anche perché loro, giustamente, non c'è affermativa, non c'è affermativa all'alimentazione scattiva, come ci dicono, non c'è affermativa all'attività fisica che loro potrebbero fare nelle scuole, anche in aree pubbliche della città. Quindi il nostro socio, diciamo, quello che posso dire, è una scuola, diciamo, pilota dove ci sta un laboratorio di cucina dove i bambini apprendono, come si cucinano ai cugliati e anche aggastaurati, come anche ci stiano degli impatti, diciamo, dove loro possono fare affermativa. Perché l'alimentazione sta un po' parte sui fronti, con l'alimentazione e con l'abilità fisica. Non lo so, io forzo un po' delle emozioni, un po' non rispondo da me, per la mia esperienza che ha avuto a livello delle scuole ambientali e spero che andranno avanti, anche con le scuole, superiore, perché chi può recuperare è il ragazzo, diciamo, adolescente, che è il ragazzino della scuola superiore. Grazie. Applausi.